Vulcanicamente gustose! Assapora le prelibatezze di Pizzeria Vesuvio! Gusta le pizze tradizionali e quelle speciali come la pistacchiosa, salsicce friarielli, gamberi e pistacchio, pizza kebab e pizza landuia. Promozione! Ogni 10 pizze, una e un omaggio! Ti aspettiamo con ottimi menu rostici nella nostra nuova sala! Pizzeria Vesuvio, per un vulcano di sapori! Via Francesco Crispi Favara!